Ci facciamo la maschera! D'accordo? D'accordo? Soldati, soldatesse Salve soldati e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ci smascheriamo insieme, quindi un nuovo episodio di Mi smaschero con voi, ovviamente con la maschera protagonista di oggi Che è questa qui, quest'altra è Alcavilla Che abbiamo aperto insieme nel pacco Ho detto qui sopra il video unboxing Maschera di sossebo normalizzante per pelli grasse Adesso voi mi state dicendo Ma perché ti fai una maschera purificante per pelli grasse se hai la pelle secca? Beh, come ho detto nell'altro video ancora Anche le pelli secche hanno bisogno di sviare, spurgare le impurità Quindi vi faccio questa e credo che dopo questa Siccome la mia pelle sarà un po' forse secca Ancora più secca chiaramente perché io ho tolto anche le impurità E il grasso, il poco grasso che ha una pelle secca Andiamo con quest'altra qui che abbiamo trovato nel calendario dell'avento Che è fantastica È la Watermelon Slice Mask Sheet di Coco Star Che ha un buon inci e degli estratti davvero carini 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 Quindi iniziamo subito con l'applicazione di questa maschera qui Sempre mi aiuto con il pennellino di silicone della Vinius Che ho pagato un euro da mi sembra idea bellezza Sì, idea bellezza Allora, questa maschera ha un odore di buono Ha un odore proprio di buono Questa maschera sa di buonissima praticamente Andrò all'applicazione guardandomi direttamente in fotocamera Infatti credo e spero che verrà bene Però sì Questa non ve la consiglio nel contorno occhi Infatti ho già sbordato un po' troppo Perché siccome è stepolarizzante E vi toglie delle cose Io eviterei Siccome la pelle nel contorno occhi È sottile, sottile, sottile La andiamo ad idratare Ma non sono molto confident Né spurgare Una pelle così sottile Come quella del contorno occhi Questa maschera è ancora più giallificante E gelatinosa Comunque finisco l'applicazione E andiamo a trattare del tema di oggi Una volta applicata la maschera 15 minuti E potete parlare dei vostri problemi di cuore Oggi parleremo invece di Come avete letto dal titolo Vanna Marchi e sua figlia Allora ieri praticamente La nuovissima puntata di Non è la d'urso Che praticamente è Do un domenica live Misto a un pomeriggio E 5 Misto la stessa roba E non è un format nuovo Hanno invitato Vanna Marchi e sua figlia Allora io ovviamente Sono un po' Un po' Quando invitano queste persone Perché Già Antecedentemente È venuto Fabrizio Corona Però sapendo che Fabrizio Corona Non dovrebbe avere Nemmeno un minimo Di partecipazione Al programma Perché porta Un comportamento scorretto A prescindere Da ogni cosa che fa Ieri mi sono ricreduto Su Vanna Marchi Ovviamente Quando devi fare video Entrano cani Porci Gatti Galline Dicevamo Non voglio essere Frainteso Allora Vediamo se riusciamo A fare un discorsetto Nel tempo di posa Della maschera Secondo me Le persone che hanno sbagliato Devono essere Ovviamente punite Soprattutto se vanno Contro la legge E Vanna Marchi E sua figlia Hanno pagato Hanno fatto Quello che hanno fatto Sono stati Dieci anni Nove anni e mezzo In carcere Siccome è carcere In teoria Non dovremmo sapere In teoria Non lo sappiamo Però dovremmo sapere Che è un luogo In cui Non ci vorresti stare Molto 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 Facilmente Figurati per nove anni e mezzo Hanno fatto Un reato gravissimo Quello di prendere in giro Le persone E quindi per nove anni e mezzo Hanno pagato Adesso Che ieri Sono ritornate Dopo nove anni e mezzo Di carcere Sono scappate ovviamente In Albania Perché l'Italia Ti mette un'etichetta Addosso E qui ci arriviamo Dopo nove anni e mezzo Sono uscite dal carcere Hanno pagato Hanno scontato la ropena Perché dopo dieci anni Cambi E soprattutto Non rifaresti una cosa del genere Perché ti ritrovi di nuovo Dieci anni in carcere E nessuno mai Nessuna persona Che è andata in carcere Sogna di ritornare in carcere È impensabile Quindi Una persona dopo dieci anni Che torna Dal carcere Si sente ancora Dire Tu hai fatto questo Undici anni fa Tu hai fatto questo Undici anni fa Ok Va bene Però È proprio per questa etichetta Che le persone poi Tendono a Cadere Psicologicamente Quindi magari a essere A ritornare serial killer Perché iniziano a uccidere persone Perché giustamente Non giustamente Però comunque Mi sta facendo Una pressione psicologica O meglio ancora Come hanno fatto loro Se ne sono andate Io a prescindere Odio Le persone Che mettono Delle etichette Cioè se io domani Adesso Butto magari Una carta a terra Io sarò Per sempre La persona Che ha buttato Una carta a terra O magari se io Adesso Che ne so Rutto In In diretta YouTube Sono una persona Che rutta sempre E questa cosa A me È un po' È un po' Tipica Molto tipica Dell'Italia Diciamo che sta Sulla La bietola Perché Si tende sempre A classificare Le persone Ad esempio Lo vedo anche Nei comici Se nei comici Iniziano ad entrare Un personaggio Non escono più fuori Se io dico Una battuta Le persone Mi scriveranno Sotto Ma non l'hai fatta Quella battuta Non l'hai fatta Quella battuta E quindi tenderanno A associare Il personaggio Con quell'azione Che ha fatto Fin quando poi Un personaggio Non farà azioni nuove Per azioni nuove Che poi Scacciano Quelle vecchie Soprattutto con i reati È difficilissimo Uscirne Ed è stata ieri La prova Del fatto che Appunto Vanna Marchi Ancora questa etichetta Chiaramente Ovviamente Vanna Marchi È un grandissimo nome E uno se la ricorda Per le sue tele vendite Ma Quello che Voglio dire anche È il fatto che In Italia Molto spesso Lei faceva delle Tele vendite Magari Non è stata accusata Per quello Ma faceva delle Tele vendite Dove Si Si vendiva Magari Questa crema Dicendo che È dimagrante Bene Questo secondo me In teoria Non dovrebbe Essere illegale Perché Perché lo fanno tutti Perché le farmacie Lo fanno Perché ci sono Delle persone Addirittura Su Facebook Li vedo Su Instagram Non so Se le ve le conoscete Ci sono Delle ragazze Che si sono messe In proprio Con aziende Stavamente sconosciute Che vendono Dei prodotti Dimagranti Per farti dimagrire Lo stesso Fitvia Ti promette Di farti Dimagrire Acquistando 50 60 70 80 90 Euro Di prodotti Ma alla fin Dei conti Lo sappiamo Che non fanno Dimagrire Ovviamente Non sto Comparando Vanna Marchi A Fitvia Eccetera Eccetera Ma Sto dicendo Che secondo me Non va Accusata Per quello Va accusata Per tutte le altre cose Magari Che ha fatto Con Donascimento Il fatto Che prometteva Di numeri Da giocare All'otto Eccetera Eccetera Ma comunque I maghi Ci sono ancora In tv Quindi io non lo so Non ho capito Bene Il fatto Perché Ovviamente È stata condannata Vanna Marchi Si era detto Che c'erano addirittura 14 persone Dietro E queste Quattro Tra l'altro Donascimento È scappato Queste 14 persone Non si sono fatte Vivere Ovviamente Vanna Marchi Siccome Era l'unica Famosa Insieme alla figlia Ha subito La pena Quindi è come se Praticamente Chi spaccia Subisce la pena Ma tutti quelli Che ci sono dietro Il palo Quello che l'ha andato a spacciare Eccetera Non vengono accusati E non vengono puniti Quindi secondo me In Italia Va bene la pena Va bene il fatto Di essere puniti Ma andrebbero puniti Un po' tutti Perché ovviamente Se punisci Chi ha la facciata Cioè se io dico Adesso una cosa Scorretta Mi si punisce A me Che ho la faccia Che ci metto La faccia In questo video Però Molto spesso Anche ad esempio In televisione Molte conduttonici Ci mettono la faccia Ma In realtà Poi C'è ben altro Ben altro Dietro C'è il copione C'è il Il testo C'è il copyright Creator Eccetera 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 Quindi se Mi capita di fare Una battuta omofoba Perché è divertente Perché il creator Il copywriter Me l'ha scritta Ovviamente ci rimetto La faccia Perché la sto dicendo Io Quindi chiaramente È ovvio Che Vanna Marchi Ci ha rimesso La faccia Però Quello che è stato Poi ieri Detto È il fatto che Vanna Marchi Si doveva alzare E dire Sì ho sbagliato A fare questa cosa Sì Però lei La pena non si dice Non si Il carcerato Non si scaggiorà Dicendo Io ho sbagliato Perché io ho ucciso Una persona Il giorno dopo Posso dire Ho sbagliato E mi scaggiori No No Io ho ucciso Una persona Faccio 10 20 30 anni Di carcere Quella È la mia scusa È quella Perché In carcere Rieducano Cioè Significa che Se io esco Dopo 10 anni Di carcere Significa che Tu Stai mettendo in dubbio Il lavoro del carcere Stai dicendo Secondo me Il carcere Non è stato Abbastanza Per te Perché questo Si è stato Questo è stato Capito Ieri Questo è stato È stato È stato È stato praticamente Detto Dalle persone Che il carcere Non è servito Per loro E invece Infatti Loro hanno detto Che in realtà È servito Adesso Sanno creati Una nuova vita In Albania E va bene Però secondo me Il carcere Esiste Per una ragione Per scontare La pena A volte ci sono Pene ingiuste Perché poi Come avevo detto Ieri Ci sono persone Che uccidono Altre persone Stanno via Ed in carcere Non ci vanno Chissà Per quale Motivo Futile Mentre loro Sono subito Andati in carcere 10 anni Senza sconti Chissà Per quale motivo Non so Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questa cosa È un discorso Un po' ampio Che forse In 10 15 minuti Non riusciamo A sviscerare Però secondo me Io questo odio Ecco Traiamo magari Delle conclusioni Cosa odio Io di questa storia E di tutte queste storie Che ci sono dietro Intanto la maschera Si sta seccando 15 minuti Questa si secca Ve la sciacquate E il fatto è che Le etichette Ragazzi Le etichette Possono anche portare Le persone Ad ammazzarsi Perché Ecco ad esempio Un'etichetta Che mi viene Spontanea È le regginette Della Disney Tutte le regginette Della Disney Hanno avuto Un'etichetta Da bambini Adolescenti Della Disney Per anni 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 E dopo un po' Sentirsi Un'etichetta Addosso Della persona Che ovviamente Non deve fare questo Non deve fare quello Perché è una regginetta Disney Deve essere Fammi friend Fa scoppiare Fa scoppiare E diventa Melisarius Per dire che Fanno male Le etichette Le etichette Portano psicologicamente Una persona A fare ancora Meggio Quindi La cosa La cosa migliore Che possiamo fare Per un carcerato Che dopo dieci anni Esce dal carcere È Aprire Le braccia E abbracciare Quella persona E credere Nel suo cambiamento Non perché Non credi più In lui O non perché Vuoi credere O meno in lui Ma perché Credi Nella rieducazione Del carcere Nel lavoro Che fa il carcere E quindi Apri Le tue braccia Abbracci La persona E la rientri Perché questo Serve in carcere A rieducare E a rientregarle A rientregarle Nel mondo Mentre in Italia Hai un'etichetta Vita Quindi nel mondo Non ci entrerai mai E mai ci rientrerai Ecco la cosa brutta Futile Magari Queste persone Che dicono E che giudicano Altre persone Che hanno fatto del male Forse molto spesso Sono loro Che fanno del male Di nascosto Però Le cose di nascosto E le cose Sotto e fuggi Non vengono puniti Con la legge Mentre chi ci mette La faccia Sì Questo E non per giustificare L'annamarchi Perché ha avuto I dieci anni E deve Ha dovuto E ha fatto bene A pagare dieci anni Per quello che ha fatto Anche se Ripeto Ci sono Lavori in giro Che ho i miei dubbi Ma Ha fatto bene Adesso Credo che sia Il momento Di farla vivere in pace Perché Vannamarchi Non deve pagare Per chiamarsi Vannamarchi Ma Vannamarchi Ha pagato Per essere Vannamarchi E adesso Deve essere Una persona Nuova Migliore E Non più Vannamarchi Noi ci vediamo Ad un prossimo video Spero che vi sia piaciuto Adesso vado A sciacquarmi La maschera Questa maschera Mi piace Mi piace Anzi adesso Lascia acquare Vi dico Le ultime Le ultime Recensioni E noi ci vediamo Ad un prossimo video Friday Life Vi dirò Non secca nemmeno Tanto la pelle La pelle liscia 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 E fresca Maschera Approvata Adesso vado A nutrirla Perché comunque L'abbiamo Sebo Normalizzata Adesso L'abbiamo No secca nemmeno L'abbiamo 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 Grazie a tutti.